La rossa lavora quanto terzi per i piccoli posti, proposta indecente, attrazione fatale, le portano casellanti a servizio di frontiera degli assondaggi, la scelta di soffrire. Al via la quarta edizione del Festival di Cinema e Letteratura del Racconto e il Film, che quest'anno conta 29 incontri e evento, tra film e appuntamenti letterari, e si svolge nei castelli di Mola, Sanicandro, Gioia del Colle e Bari. Per le quattro tappe off la rassegna si fermerà anche nel comune di Toritto. Quarta edizione di Del Racconto e il Film, un festival di cinema e letteratura legato al sociale. Sabato 22 giugno la serata inaugurale al Castello Angioino di Mola di Bari, dedicata al tema della scoperta, con la visione di Venuto al Mondo di Sergio Castellitto. La quarta volta alla regia dell'attore romano con l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini. La nuca è il destino, il fiume della vita. In realtà, tutta l'edizione di quest'anno del festival organizzato dalla cooperativa sociale Bambini di Truffaut e diretto da Giancarlo Bissitilli, ha un fil rouge ben preciso, ovvero il canto della vita anche dinnanzi alla morte. Ad aprire la serata di sabato, condotta dalla giornalista Anna Maria Minunno, l'attrice è Giussi Fralonardo, con una lettura di un testo di Sonia Antinori sulla guerra nell'ex Yugoslavia. Subito dopo, i saluti dell'assessore regionale al Mediterraneo Cultura e Turismo Silvia Godelli, del sindaco molese Stefano Di Perna e del suo assessore alla cultura Vito Carbonara. A introdurre la visione della appassionata storia d'amore tra Gemma e Diego sullo sfondo della guerra dei Balcani, lo stesso Sergio Castellito, che si è collegato telefonicamente con la manifestazione, salutato calorosamente dal pubblico. Ci sono e ancora una volta di scuso, ancora una volta di ringrazio per l'affetto. Grazie a te, buona guarigione. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Del racconto il film continuerà per tutta l'estate 2013, fino alla serata del 24 agosto. Per maggiori informazioni sul ricco programma, basta consultare la pagina su Facebook del Festival, all'indirizzo www.facebook.com barra festival del racconto il film. Buona visione, grazie a tutti.